una mamma ci scrive quanto tempo occorre per imparare a leggere a scrivere correttamente quello che è importante non è quanto in fretta impari il bambino ma quanto lo faccia accuratamente non ci sono scorciatoie il metodo visivo globale lettura della parola intera per imparare a leggere è stato pensato come una scorciatoia i primi passi vanno fatti nella scuola elementare dove si va per imparare a leggere a scrivere e non c'è da vergognarsi a sbagliare allo stesso tempo non bisogna lasciar correre gli errori ma correggerli ogni volta con attenzione e precisione lo studio dell'alfabeto comprende tre semplici passi 1 insegnare i nomi delle lettere in ordine alfabetico a b c d 2 insegnare i suoni che le lettere rappresentano a b c d 3 insegnare a scrivere le lettere singolarmente in corsivo questa e altre risposte le potete trovare nel manuale elementare di consigli pratici per genitori insegnanti e non solo disturbi quali disturbi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti